Un'idea vincente è quella di Coldiretti Abruzzo che ormai da due anni per due volte a settimana porta l'Aquila a sapori direttamente dal produttore al consumatore. Un mercatino tipico di prodotti locali che si ritrova nel parcheggio del supermercato Carrefour e che ottiene sempre un grande apprezzamento da parte dei clienti. Noi contiamo di mantenerlo sempre, questi sono due appuntamenti sia il mercoledì che il venerdì, sono ormai due anni che andiamo avanti con un ottimo successo sia da parte dei produttori che riescono a vendere i prodotti del territorio ma soprattutto da parte dei consumatori che apprezzano la qualità, la genuità e anche la tipicità dei prodotti che vengono forniti e vengono portati per la vendita diretta. La caratteristica di questo mercato è che i produttori vendono direttamente ciò che producono quindi praticamente qui è possibile trovare i prodotti di stagione e i prodotti del territorio. Una decina i produttori che si ritrovano nel mercatino denominato Campagna Amica prodotti sani e genuini e una vetrina importante per farsi conoscere nella realtà locale aquilana. Innanzitutto diamo valore ai prodotti del territorio e in secondo luogo diamo valore alla qualità dei prodotti. Logicamente nei discount la qualità dei prodotti è sicuramente inferiore, ci sono dei prodotti di dubbia provenienza. Invece nei nostri mercati troviamo solo e esclusivamente i prodotti del territorio, certificati e prodotti controllati in quanto le aziende agricole che fanno parte del circuito di Campagna Amica devono sottoporsi a dei controlli e devono attenersi a dei regolamenti che abbiamo in termini di produzione e di vendita. Quanti produttori ospitate in questo mercatino di Campagna Amica? Ne ospitiamo una decina, logicamente ci sono dei prodotti che in determinate stagioni non ci sono e poi altri ci sono e così via, però mediamente una decina di produttori.